amici ma soprattutto nemici bianconeri buongiorno buongiorno rieccomi classico video della luna della pausa pranzo dedicato a costici costici ragazzi costici perché dedicato a costici perché perché intanto se lo merita se lo merda veramente sto ragazzo che vi posso dire una cosa lo vedo un giocatore affamato un giocatore con una fame impressionante con una voglia di spaccare tutto con una voglia sempre di mettere la grinta la gara l'agonismo e anche la qualità attenzione anche la qualità perché questo mette cross non ci pensa un secondo non ci pensa neanche un minuto non si pensa completamente via subito quando può mette subito scotella questa palla in mezza e mette anche come detto prima la qualità quindi questo video è dedicato a te caro costici che ti sei veramente preso questa fascia ti sei preso un po come il soldatino di livio sì ti posso chiamare il nuovo soldatino perché mi piace mi piace perché hai questa grinta una grinta dal giocatore del napoli perché il giocatore del napoli ragazzi sono così non vi seccate se inserisco sempre il giocatore del napoli però per me è fondamentale farvi capire il concetto la fame la fame come lupi come lupi e il giocatore del napoli sono lupi hanno fame non si saziano mai anche dopo anche dopo vittorio su vittorio ma hanno sempre questo nome philip postici rappresenta uno di questi come un lupo sempre affamato e quindi complimenti a philip postici ottimo acquisto e qui bisogna fare un applauso alla dirigenza e qui bisogna per cui bisogna fare un applauso alla dirigenza anche se l'ho voluto all'era ti faccio un applauso anche ad allegri se l'ho voluto all'era se l'ho voluto all'era bisogna fare un applauso perché questo è un acquisto azzeccato un acquisto azzeccatissimo veramente ragazzi quantità e qualità complimenti a philip postici questo video è dedicato a te